Tutto regolare Ciao, 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 ciao Dopo questo bagno di folla in Piazza Piemonte alla Feltrinelli, come è andata ragazzi? Guarda è andata benissimo, siamo stati accolti davvero calorosamente, siamo contenti e soddisfatti di come è andata soprattutto ed è sempre bello, è sempre una cosa nuova vedere tutta questa gente che ci vuole bene in sostanza ogni tanto vediamo qualche faccia che già conosciamo, quindi questo ci fa piacere, ci fa piacere conoscere facce nuove quindi è davvero una cosa bellissima, proprio siamo contenti So che avete fatto un video nuovo? Abbiamo da poco fatto un video nuovo che uscirà tra poco, pensiamo una decina di giorni, massimo due settimane e del video di Tutto Regolare, che è un nuovo singolo ed è anche il pezzo che presenta il disco sotto voto generazionale Come reagiscono i vostri fan ai vostri concerti? Avete appena suonato all'MTV Day? Ma direi che la reazione è fantastica, ma anche oggi abbiamo fatto anche solo tre pezzi acustici e la risposta è stata veramente fantastica La risposta è fantastica, bellissima, siamo davvero grati Grati e grazie Tra poche settimane suonerete insieme ai Cinema Bizarre, come vi sentite di aprire in un concerto così grande? Eh, sarà sicuramente un'esperienza magnifica, ci stiamo preparando per dare il meglio di noi stessi e cercheremo di portare la nostra onda emotronica in un ambiente che non è proprio il nostro, speriamo di far contenta il più giusto possibile Qualche chicca che raccontate solo a Blogosfera e a nessun altro? Guarda, una chicca che possiamo raccontare a Blogosfera è il fatto che per arrivare qua oggi ci siamo arrivati veramente al pelo perché abbiamo finito la benzina, cioè è stata una cosa, un disastro Esatto, abbiamo rischiato E' andata per tanto così, se no ci devi recuperare l'autostraggio Non ci credo di cosa è successo, stava iniziato proprio il, non si vedeva, come si chiama, la lancetta perché si è bloccata e si è fermato proprio vicino al benzinaio, quindi è andata veramente bene Esatto, una volta ce l'hanno cavata ultra bene E viva, questa è la chicca del giorno Sicuramente è il giorno proprio, infatti Il giornaliero Volete salutare i vostri, i vostri fan che vi guarderanno su Blogosfera? Allora, ciao amici e amiche di Blogosfera 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 Un saluto dai Dari, mi raccomando, state serene Sera Anche io sotto vuoto ci seguo Bella, ciao a tutti Ciao ciao